Ciao, hanno una fame notevole di materie prime, ormai l'unico continente rimasto abbastanza vergine è l'Africa. Cosa bisogna fare? Bisogna svuotarla di giovani ai tanti e abitanti e mandarla nella vecchia e decrepita Europa. I nuovi schiavi. Così una volta svuotata l'Africa, loro comprano a peso tutta la terra, tutto il minerale e tutte le materie prime che si trova nel sottosolo, più o meno quello che sta facendo la Cina. Ma la Cina la fa in modo più intelligente perché va lì e tira fuori del denaro, paga e tira fuori del denaro. Qui invece le multinazionali anglo-americane sono molto più sottili, deportano la popolazione per desertificare l'Africa e quindi arrivano liberi. Questa è la mia teoria. Io ce l'ho con questo progetto di africanizzare l'Europa, ma non con i neri, i neri sono vittime come noi.